bello a tutti ragazzi sono JeffXGossio e oggi siamo su Garting Phone facciamo animazione ok vai vabbè allora è normale vai andiamo io sono JeffXD poi c'è vabbè autobus carsico e cobra allora scrivete una frase casuale ho fatto ah Jacome non ci dobbiamo vedere Jacome non ci vogliamo vedere ho scritto? avete scritto? ok no 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 questo mi è piaciuta questo mi è piaciuta questo è di Andrea lo sei di Andrea sicuro? il mio è quello di Andrea il tuo è quello di Andrea? ok ma non so come si fa ops l'ho fatto nero allora facciamo l'autobus no scusa scusa ah quindi è mio Giseppe Giseppe ti adoro grazie pronto l'ho fatto non devi vedere io ce l'ho fatto eh era facile quello che mi hai detto tu mi consiglio ma io non so come si dice è disegno è disegno prova disegno io l'ho fatto accanto basta hai messo fatti prondo sei fatto io però tu mi vedi beh no questa cosa non ce l'ho fatto però l'ho fatto come raga eh manca poco tempo l'ho preferito di Jacopo è giallo giusto scusate non so disegnare poi Jacopo però lo devi fare bene sì è bellissimo il mio l'ho fatto ok hai fatto sì no ok attenzione blinks blinks attenzione sta suonando la tappanella ring dai blinks ok ah l'animazione ah ma è l'animazione ah bello non è l'animazione spatto io ho scritto una frase bello il disegno io l'ho scritta io l'ho scritta la frase secondo me non so se non va bene secondo me secondo me non va bene però clicca prondo ok ma che cos'è che cos'è no mi dissocio mi dissocio allora mi dissocio però facciamo così ho fatto me l'hanno fatta facile me l'hanno fatta facile a me ah no perfetto ok ok fatto pronta 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 fatto ok benissimo aspettiamo io devo scrivere questo io devo scrivere questo non puoi dire allora allora io ho fatto fatto autobus autobus scarsico autobus mi sa che bling se non ha fatto ok si è fatto ha fatto vediamo l'album di andrea ciao andrea ciao allora vediamo vediamo un poco che sta scritto vediamo il ghiaccio che bacio cobra mille 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 allora ho fatto quale ah e io ho pensato un'altra cosa costa e cobra si vogliono bene ma io ho scritto frost l'ho scritto nella no perché no perché uno aveva fatto costa e cobra si vogliono bene il gioco era quello autobus autobus scarsico si scende contro un autobus è autobus c'è Felix Grosse l'ha disegnato molto bene che so dire autobus muore sotto un autobus vabbè bello vabbè andiamo l'album di cfx goss links distrugge il letto ma ma che cos'è ma cos'è roba come questo mi è arrivato bellissimo bellissimo ah e questo qua pensavo io pensavo questo a me mi è arrivato ah e questo mi è arrivato questo disegno è fatto bene che carino cobramagos cobramagos oh cazzo bellissimo ma devo dire ok facciamo no no facciamo qualcosa animazione animazione no no animazione si è andata vabbè vai questo qua che abbiamo fatto ora crea il primo disegno ah ma quello che abbiamo fatto ora non è l'animazione bene ok crea il primo disegno dell'animazione devo pensare quando finisce io lascio quell'animazione là io l'ho fatto non può vedere jacobo jacobo ci ha visto eccomi qua ok ok ecco 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 Ragazzi avete fatto? Siamo ancora No Eh Fatto Mi sa che mi vado nel video Ho fatto una cosa brutta Pietro non è proprio così Ok Allora Devo fare il tuo disegno Sono illegale Fallo più bello Ok No Chi lo sta vedendo No 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 Verrei che abbiamo coperto per non sentire la mia vita in difficoltà Fatto Allora Ok A me va bene Treme Vai ho fatto Blinks vai Eh quello che mi è capitato per me è un modo difficile Ok Ma blinks ho avuto Che deve essere buono Copra la modifica di un po' Ah No Allora 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 Mi è arrivato un disegno Che potrei modificare un bel po' Facciamo che Ok Però Mi sa proprio Che potrei fare così Mi sa che mi è arrivato Quello di Giuseppe Ok Ok Fatto Fatto È passato un po' Cioè devo dire la verità È passato molto meglio Ah è bello Ma che cos'è Ma che cos'è Ma che cos'è raga Il mio è bellissimo Ma non capisco Ma secondo me Eh raga posso riprendere tutto Perché non ho capito Fatto Fatto Mi sa che questo è l'ultimo E poi andremo a vedere Tutti Ma io ho c'è Ma è Mettete pronto Mettete pronto Ma sono pronto Ok Ok Eccolo Gli album Vediamo un pochino Quello di Andrea Ciao Mi è capitato Mi è capitato Quello di Andrea Ciao Eh Eh io ho pensato Di cambiarlo un po' Ho pensato di cambiare un po' Ho fatto 2008 Ci sta bene Ci sta bene Però Fair Cobra L'animazione grazie a Fair Cobra Non è così È bella Ha mangiato qualcosa di brutto Ok c'è FX Blinks Vediamo l'album Dice Hai perso Ok E io Ho modificato con Hai vinto Ma dov'è Hai potenti Ok Bravo Bravo hai vinto Andrea l'ha modificato con Il pacchetto delle figurine Jeff X Ghost Aveva disegnato questo Che non è molto Family Friendly Così Questo è più colpo E che cos'era quello Questo era quello Del cofro E questo è quello Ma che è Che è È un mouse Che cos'è quello È tipo un pulbo Un cubo Ah Hai lobo banana Andrea l'ha fatto così Allora la mangia la banana Blinks l'ha fatto così E Jeff X Ghost l'ha fatto un po' diverso Ok 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 Benissimo Raga vogliamo fare un'altro Replica Non mi piace Qualche cosa Un'altro Facciamo un'altro Per uno Spondo 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 Ok Che cos'è Spondo Che cos'è Spondo In contesto Crea uno spondo fisso Per le animazioni Ah Figo Che cosa ti devi fare Oh Si degrava lo Spondo Inizio a disegnare Lo spondo Ok Che dobbiamo fare Lo spondo Che vorrebbe anche Giuseppe E tutto il resto È così Fatto È molto facile È facile Ragazzi Ragazzi Sono già 15 minuti Mi sa che dopo che sto Togliamo Eh si infatti No Aspetta Ok 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 È bellissimo Il mio fondo Per il mio Fatto Ci sono Ci sono Ci sono Ma questo L'onore 8 8 Fasi Che 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 Death Battle Ya Mi trovo Specundinata Ya Mi piace Faccio L'animazione Non lo so Come fa Ti ho fatto L'animazione Io ho fatto l'animazione Ma pure Faccio Così No Giuseppe Dai Fammelo Più bello Sì Sì Lo sto facendo Più bello Più bello Basta Ci hanno fatto L'animazione Ma ti ricordi Ecco Adio Ma non è già Misere Fatto io Eh vai Metti pronto Sei l'uno Come sono pronto Chi è quella che non mi ha visto pronto Blinks Ok Blinks Il pisale Scade Che devo disegnare Windows 42 Crea un nuovo passaggio Per l'animazione Sarebbe Che è un segno Però che c'entra Capito Eh ma come faccio Voi Vede Tutto la scheda Di foglio E niente Ah boh Faccio Che Sto Aprendo Che Gioco C'è un segno C'è un segno Qua Anzi che sto nella 1 No paura Sì 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 Mi ha messo pronto E' un segno Dove Non capisco Vabbè Ma io questo Questa modalità Non l'ho capito E' un segno Boh Hai mancato Ok Chiamo Gran Perché avete congelato il nero Che cosa Qualcuno ha rovinato il disegno Stava un deserto con i cactus Ah L'hai rovinato tu No No Eh Non ti guarderò il film Il Il Cosa Sono stato io Ecco Eh Io non sapevo cosa disegnare Però non te l'ho rovinato tutto Siete ancora il sole Scusami però Ha detto solo Passiamo Non te l'ho rovinato tutto Però Boh L'ho fatto Boh Ma ce l'avete farnuto Andami Volei Ho finito Fatto Eh Io questo Fatto Non ci siete Mettete pronto Io ho messo pronto Ok Mettete pronto Mettete pronto Mettete pronto Allora aspetta Ancora devo Ok 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 Sei basso Ti sa Nero in un po un buon rosa non abbiamo le azioni della sfonda che hai fatto ok questo è il mio disegno ma come l'avete inguagliato un po il tuo disegno non te l'ho inguagliato qual è me lo dici qual è no io dico a giuseppe seppi dici qual è il tuo disegno sono delle montagne capisco capisco io se l'ho preso però non l'ho inguagliato anzi neanche io l'ho inguagliato per piacere non andare a vedere su youtube ho provato a farlo normale c'è a farlo come prima io l'ho ricalcato ragazzi dobbiamo fare uno sfondo e poi nello sfondo per l'animazione no io non l'ho già capito spiderman spiderman eh chi lo spiderman chi lo c'è una string di scopo ma tu sei pronto eh tu me l'hai rovinato cosa facci io io non te l'ho rovinato io ho ricalcato io l'ho ricalcato tu solo eh allora chi è che è l'uscema e sto sogliendo un dono no veramente eh vai alla vedendo video eh allora vedi mo vedi mo eh spero metti pronto guarda metti pronto dai ne abbiamo altri due come altri due eh sì dura questo dura 8 lo so nooo 5 su 8 siamo dai 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 o dai 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 e raga fate subito perché il video ci sta a 24 minuti ah raga fateli subito fatela una roba a caso no dai così rovino no è rovinato il disegno giuseppe no è chiaro jacopo ha rovinato il disegno jacopo se faccio pronti e te lo rovinò ok andrei metti pronto ma fermatevo fare ancora andrei po andrei che prima se la mandavo andrea prima se la mandavo che nessuno metteva pronto poi poi se camon metto non metto pronto giamana mondo aspettate sono io l'ho aggiustato il disegno vabbè ho fatto una schermata bellissimo a quello la del sole del deserto noi hanno fatto veramente bello ho fatto bellissimo è il sole quella del deserto jacopo della scarabocchiato tutto è tutto nero no ad andrea ok io l'ho aggiustato un botto avevo fatto di una bella che non aveva già fatto oggi sei oh io ho visto che voglio bene ad andrea le scarabocchiato gli elementi anzi io lo miglioro gli metto un pochino gli faccio un pochino più grande il sole perché perché il sole un pochino poco e poco e poco e poco così questo video un pochino giallo ok ok il deserto io glielo farei un po' più secondo me lo dirà più del mio oh chi te l'ha fatto capire eh per il caso è The Battle si The Battle è il mio The Battle è il mio The Battle è il mio The Battle è su qualche altro sito coreoco Euhm dai il mio komer qui l'hanno modificato loro eh 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 gatti ahi io Te fai la bocca tu ations I say, apında Ia lato pesta bush con da Rei che Belidio va bene uh è disegno vai clicca su disegnalo ok basta basta che non vuoi aspetta fai così così fatto ma allora invece visto che farono mi ha fatto un pochino di debattolo io al suo bel disegno quello la della città con una scopa bella bella la monta o non mi vedo il video no io lo faccio così come come era prima sicuramente ti ricalco un pochino delle montagne sicuramente invece invece il caro signor cfx blinks ovviamente mi ha fatto un pisellino è anche un latte chiamato bianco chissà mai perché tutta questa violenza su un povero gioco antri a sto verso non so chi te l'ha imparato ma mi sa che te l'ha imparato un ghiaccio ragà mettete pronto ragà chi non mette pronto e supporta le lgbt è no mi dispiace supportate le lgbt mi dispiace ammiglia sono gay io che sono gay sono gay ah si davvero ok io l'ho fatto ok andrea è gay mi sa che è gay andrea mi sa che è gay ah qualcuno è stato tu fatto un bel deserto vediamo per co ecco fai schifo cominciamo fai schifo l'era ecco vedi vedi che è stato cocosto io ho fatto nessuno mangiare la notte andrea andrea l'ha fatto morire ok vediamo per co no vedi fer copre ha fatto così io invece da bro bambino io l'ho fatto questo ne ho fatto niente no io ho fatto un po più grande il sole e blinks l'ha peggiorato ah ok vediamo è perchè era l'ultimo andiamo avanti 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 e la persona non te l'ho fatta io ma te l'ha fatta andrea oh questo era bello no tu dire eh questa qua te l'ha fatta io e io invece te l'ho fatta e no però cobra l'ha fatta per primo ho fatto spiderman ok bello spiderman cobra poi l'ha fatto eh quante cose l'ha fatta basta l'ho vado tutto due di cacca del mondo male ma che ne vede ok bello cfx ghost aveva fatto un bel battle oh no oh no oh no cfx rings ha deciso di metterlo è schifo ok però potrebbe eh che andrea dopo andrea dopo mi sa che lo picchia la mamma cfx ghost cfx ghost l'ha fatto uguale cfx blinks cfx blinks si sono pronto ecco oh no ha fatto un pochettino di cambiamenti eh eh così eh e e cobra non ci ha fatto niente ma andiamo a quello di fire cobra andiamo a quello di fire cobra ragazzi andiamo andiamo da fire cobra vediamo eh windows windows io ho avuto la mente idea windows 45 windows 45 cfx blinks ha scritto minecraft minicraft andrea ciao ha scritto fokonite fai il cobra ha messo windows e ricalco su ma perché ricalca no raga adesso lo rifammo e invece ghost ha scritto windows 35 e blinks ha deciso di mettere windows 45 andrea ha deciso di togliere una cosa molto bella va bene ragazzi spero che questo questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale di cfx blinks e niente vi lascio ehm il link per avericare no il link di garting phone forse e niente ci vediamo in un prossimo video e un saluto da me cobra ciao da andrea ciao ciao e da blinks ciao e niente ciao